Buongiorno, buon pomeriggio. Allora, sono veloce perché 90 secondi passano in fretta. Ieri sera ho iniziato il libro di Amaniti ed è bellissimo, si chiama La vita intima. Poi mi sono inventata di guardare su internet cosa pensano gli altri cittadini italiani dei Veneti. E sinceramente non è edificante molto spesso leggere certe cose. Comunque fa niente, non abbiamo da dimostrare niente a nessuno, noi siamo noi stessi e dico che non cambierei regione per nulla al mondo. Comunque, anche perché c'è un pulito qui da noi ragazzi, ecco ce lo scordiamo in altre parti. Comunque dobbiamo riqualificare il nostro accento, il nostro dialetto perché non è poi così male. Cioè, anche io a volte dico che abbiamo un'inflessione molto marcata, eccetera. Ma noi dobbiamo difendere il nostro modo di parlare, non vergognarci. Per cui, anche se è marcato, ma a forza di ascoltarci, noi dobbiamo rallegrarci del nostro dialetto, del nostro modo di parlare. O no, non è mia vero? Non è mia vero? Non l'è mia vera? Quindi, basta, basta, i veneti devono riscattarsi da questa nomea di questo dialetto che si strucca il botton. È bello anche dire, si strucca il botton, va bene? Ciao. Ciao.